E benvenuti sul canale di All Games Italia, io sono Gwennelan e oggi continuiamo a giocare a Baldur's Gate Enhanced Edition. Devo fare prima una premessa, ho installato un paio di mod nel nostro gioco, non sono assolutamente mod che modificano il gameplay, sono stata attenta a non farlo perché non è quello che desidero, fate un attimo silenzio, questi hobgoblin mi stanno disturbando, e ne ho installati pochissimi, ve li illustro. Il primo è quello che potete vedere qua giù, cioè l'auto-haste, che possiamo anche disabilitare con una abilità speciale, praticamente questo fa sì che i nostri personaggi, il nostro gruppo insomma, solo ed esclusivamente fuori dal combattimento si muova al doppio della velocità, infatti vedete che sono tutti hastati. Questo l'ho fatto per esplorare le aree più velocemente, in questo modo posso anche andare avanti e indietro senza dover necessariamente tagliare le parti intermedie che sono relativamente noiosi. Un altro mod che ho installato e che probabilmente in realtà non vedremo mai, sono dei commenti positivi da parte dei nostri compagni, di allineamento neutrale, quando la nostra reputazione è nella media, perché giustamente, why not? Però appunto noi in realtà abbiamo un parti malvagio, non neutrale. Vabbè, l'unica neutrale siamo noi, ma comunque non è importante. E poi un altro mod che ho inserito è questo, which I think is fantastic. Praticamente adesso possiamo impilare fino a 120 frecce. Credo che possiamo anche identificare questa roba. Questa è una cosa bellissima, perché ovviamente ci fa risparmiare spazio nell'inventario e senza rotture di balle, in sostanza. E aveva il coso delle... Un ultimo mod che ho installato è la possibilità, dai queste frete alla mia personata, grazie, è la possibilità per i maghi di imparare gli incantesimi senza fallimento. Quindi ormai non ci sarà più praticamente la possibilità di fallire quando impareranno un incantesimo. Questa può essere una modifica forse un po' più importante, però visto e considerato che io comunque ricaricavo ogni volta che non riuscivo a fare imparare un incantesimo, ci siamo semplicemente risparmiati... Ci siamo semplicemente risparmiati tanti caricamenti. Anche tu, Edwin, anche tu. Perché lui non può mettere... Ah, perché sono terzi. Ecco qua, infatti. Vabbè, da questi cinque consumo prima questi, grazie. Quindi sono molto felice di queste modifiche e spero che la velocità ci possa aiutare. In ogni caso, andiamo a esplorare il campo dei banditi. Vi ricordo che qui abbiamo trovato Tasok, che sembra essere... Cagain, non mi interrompere. Che sembra essere dietro i problemi alle miniere di Nashkel e anche a questo punto dietro i attacchi dei banditi lungo le vie commerciali fra Amn e Baldur's Gate. Possiamo affrontare quest'area in un paio di modi diversi, ma io ho deciso appunto di farlo in maniera relativamente pacifica. Perché dico relativamente... Lo scoprirete tra poco. Oh, avevo appena salvato, perché ho già risalvato. Vabbè, non ha importanza. Possiamo saccheggiare tutto, non se la prende nessuno. Che bella cosa. No, nessuno se la prende. Allora, devo dire che non ricordo cosa c'è nelle singole capanne e non credo che le esamineremo in questo momento, perché tanto ci poterà farlo tra poco. Ma io non avevo appena guadagnato spazio, scusate. Perché adesso mi trovo in queste condizioni pietose? Allora, tu cosa sei? Freccia mordente, scusami, tu, freccia gelida. E vai qua con le altre freccia gelide. Ok, un'unica freccia di questo tipo. Tu, invece, una freccia più uno, puoi andare qua. Benissimo. Venite tutti qua. Parliamo a questo Ardenor Rush. In questi giorni accettano proprio tutti. Resta nella tua parte di accampamento, se vuoi conservare la testa. Ai miei hobgoblin potrebbero piacere i sacchi di carne come te. Non voglio litigare con loro in questo momento, quindi risponderò. Signor, sì, manterrò le distanze. Smidollata, come tutti gli altri. Che cosa ha mantenuto la torazza in cima alla catena alimentare? La furbizia, Ardenor Rush. La furbizia. Se c'è un contenitore che può essere chiuso, sarà chiuso. Non voglio prendere anche quella roba. Vieni qua. Ok, seccaturina. La seccaturina, una piccola seccatura. Ora, questo lo possiamo dare a lui. Questa roba, non mi ricordo chi ce l'ha. Forse lui, forse qualcun altro. Qualcuno lo tenga, che non sia io. Qui abbiamo una caverna. La caverna, non mi ricordo cosa c'è nella caverna. Esploriamola. Oh mai! Tu vieni a prendere in giro Garklax. Il land di Garklax è stato anche troppo in caverna. Fa riuscire subito o tu muore. Perché sei qui? Noi qui dentro per macello fatto in accampamento. Grossarista due notti fa. Tu dovrebbe sapere. A meno che tu non artiglionero. Tu odere sbagliato. Tu morire. Ma io sono una nuova recluta. Non potevo sapere queste cose. Fate mettere la mia persona già un po' più indietro. Grazie. Uccidetemi questo. Grazie. Questo è un Flint. E' un tipo particolare di gnollo immagino. Morite. Vedete quanto è bello il grido di battaglia di Viconia. Sono contenta di averla nel party. Ok. Non è durato assai questo Garklax. Perché abbiamo avuto una pausa automatica? Ah sì perché lui ha avuto... Ha consumato l'arma. Ok. Oh mio Dio ce n'è un altro. Vai. Tesoro puoi venire a raccogliere un po' di roba nel frattempo. Ok. Non dormite voi. Ok. Qui 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 qui. Lui aveva più... Più... Gioielli degli altri ma niente di che. Benissimo. Spero non se la siano presa perché abbiamo ucciso i loro alleati gnoll. Dopotutto. Lui è qualcuno che ci interessa? No. È un semplice bandito. Qui possiamo esplorare. Ho già preso tutto. Non ho preso nulla da qua. Guardate che bello. Adesso riusciamo ad aprire tutto. Ma quando torniamo a Beregos dobbiamo derubare Algernon. Assolutamente. Credo che possiamo farcela adesso. Tra me e Chartill. Oh... No. Ho sbagliato. Ah per curiosità. Vediamo cosa c'è in una di queste tende. Cosa sto mettendo da parte. Ah tipo qui non c'è assolutamente nulla di... Nulla di... Guardate come è tutto molto più veloce adesso. Ok. Allora se tutte le piccole tende sono così possiamo effettivamente esplorarle. Credo. Ah qui c'è... Not. Non mi piace la tua faccia. Neanche un po'. La prima è stupenda però diciamo la seconda. Non mi interessa minimamente quello che ti piace o non ti piace. Voglio solo sapere qualcosa su questo posto. Fuori dai piedi. Ho detto che non mi piaci e non cambierò idea tanto in fretta. Va bene. Non c'è nulla che posso toccare qua. Cioè è un pieno di roba che posso toccare. Se la prende. Se io tocco cose. Non mi sembra che se la stia prendendo più di tanto. Vieni qui tesoro. No no. Oh oh. Se l'è presa. E vabbè. Puoi non prendersela proprio con me? Io non... Sorry. No 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 no. Perché avevo l'inventario pieno? Perché abbiamo preso stupide pozioni. Va bene. L'accampamento se l'è presa? No. Se ne prega una mazza a nessuno. In questa tenda non si entra. E in questa però possiamo entrare. Oh salve. Io sono Tersus. Siete le nuove... Siete le nuove reclute? Tersus. Bel nome. Se lo leggo il contrario diventa Surs. Surs Red. Non capisco il senso di questa battuta. Proviamo a dirla. Piantala. Mi stai spremendo tanto il cervello che mi faranno male i capelli. Surs Red. Cosa me ne faccio di un nome così? Avanti. Prendi star matura di cuoio da brava e va via. Va bene? Abbiamo... Uh certo. Esagera. Senti un po'. Che cosa sai di questo posto? Per esempio. Chi paga gli stipendi qui? Non capisco questa battuta però. Qualcuno dice gli zent. Qualcuno dice che forse è il trono di ferro. Io non faccio domande. Il capo mi dà i soldi e io distribuisco le corazze di cuoio. Semplice no? Gelo. Artigli neri. Non mi interessa chi siete. Io vi do una corazza di cuoio. Artigli neri. Neri. Gelo. Sono gli stessi. Sì. Proviamo a chiedere chi sono. Non siete con gli artigli neri né con i gelo. Allora dovete essere degli indipendenti. Artigli neri, gelo, stessa roba eh. Ma indipendenti nessuno ha detto niente di indipendenti. Meglio che mi ridate tutte quelle corazze. Artigli neri e gelo. Siamo due gruppi di banditi. Io sono dei gelo. Gli artigli neri non prendono hobgoblin. Perché mai le due bande di banditi dovrebbero lavorare insieme in questo modo? Perché lo dice il capo, chiaro? Cioè, non dare subito la colpa a me. Ma ci picchia. Voi indipendenti siete dei belli e del gratta capi. Vabbè, lui mi sta simpatico. Non voglio ucciderlo. E sono contenta che per ora non mi stia attaccando. Allora, questo sicuramente mi serve la mia personaggio. Ma abbiamo preso il resto. Vieni qui tesoro. Perfetta. Ops. Well. Avevo solo dato un'occhiata. Non te la sei presa per tutte le altre casse e te la prendi per quella. Mi sembra quanto strano questo comportamento. Ok. Non ero pronta a questo. Carichiamo. Non tocchiamo qui. Mi pare che l'unica cosa importante fosse qui. Posso prendere? O ti offendi? Vedete, non si è offeso. Solo per quella si è offeso. Boh. Le stranezze della vita. Qui siamo stati? Mi sa di no? Abbiamo un flint. Veterano gnol. Ok. Non hanno nulla da dirmi. Posso... Oh, che palle. Ok. Allora, le casse chiuse non possiamo aprirle. Tutto il resto possiamo aprirlo. Il senso di questa cosa? Ok, vabbè. Allora le facciamo dopo perché non è che possiamo farci l'accampamento due volte. Dunque, quest'area mi sembra che sia relativamente piena qui e relativamente vuota giù. Potrei ricordare male, ma io ricordo così. Qui abbiamo un bandito, qui abbiamo un bandito, qui abbiamo diversi banditi. Qua abbiamo Tau, Gorz, Kozan. O come si legge. No, 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 non volevo parlare con te. Parliamo con lui. Veloce, 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 mia cara. Sono Taurgos Benhamma, capo degli artigli neri. In confronto a noi sei piccolo e debole. Ricordalo. Metti il bastone tra le ruote agli artigli e ti uccido. Non col martello, ma con le dita. Lentamente. Non voglio litigare con lui, però non voglio neanche essere una zerbina. Provo a dire la due. Ti rispetto, ma non ti temo. Il timore è meglio riposto nei cuori delle nostre prede. Ah ah ah, bel modo di fare. Cerca di conservarlo quando arriva Tazzo. Lui ingaggia gli artigli neri per il trono di ferro, ma tu prendi ordini solo da me. Vito sta lontana dai gelo. Sono nostri amici finché non concludiamo il lavoro. Allora, vediamo che vuole questo disgraziato. Ehi tu, recluta. Comportati bene perché ti sto tenendo d'occhio. E tu chi saresti? Io? Sono Credus. Io sono il tuo super bio... Il tuo cavo. Ero l'ultima recluta prima che arrivassi tu. Ora te la vedrai tu con tutte quelle guardie del cavolo. Io salirò di grado. Ehm... Spero di fare un lavoro tanto buono quanto il tuo. A cosa devo fare la guardia? Bene, questo è un lavoro importante. Bisogna tenere sotto controllo la tenda di Tazzo. E controllare che nessuno vi si avvicini troppo. È lì dentro che avvengono dei cici piani super segreti. E dove va a finire tutto il ferro e l'altra roba. Colpisci chiunque tenti di avvicinarsi. Ehi, magari ti faremo fare un piccolo test. Puoi sorvegliare il posto stasera. Tazzo sarà felice che abbiamo preso l'inizianti... Limiti che non abbiamo aspettato. E almeno per stasera mi potrò riposare. Controlla che niente vada perduto, altrimenti ti costerò la testa. D'accordo. Non posso salvare perché questo deve sparire. Perfetto, sei sparito. Però all'esterno posso saccheggiare tutto quello che voglio, sbaglio. Qui c'è un altarino... No, sono delle rocce. Mi sembrava un piccolo altarino di pietra. Bon. Proviamo ad aprire qua. Ah, volevo aprirlo, tesoro mio. Ah, nessuno se l'è presa. Nessuno se l'è presa ancora. Sto sbagliando tasto. Ok, non ho più spazio nell'inventario. Questo possiamo darlo a qualcun altro. È possibile che siate tutti lontani. Venite qua. Non è possibile. Ancora. Che secatura. Su. No, 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 no. Volevo la mia personaggio. C'è poco senso nel saccheggiamento di queste aree, devo dire. Ok, allora, noi dobbiamo sorvegliare questa cosa. Che è la tenda di Tasoc. Io direi di entrare. Non mi importa chi tu sia. Nessuno deve entrare nella tenda di Tasoc. La pena è la morte. Allora fatevi sotto, perché io non ho nessuna intenzione di andarmene. Sono qui per ordine di Tasoc stesso. Diciamo la seconda. Mi ha incaricata di recuperare i suoi documenti e le sue carte, di consegnargli il tutto il più presto possibile. Le tue grette menzogne sono sprecate, come Reddell. Come Ender sai, hai disturbato il trono di ferro per l'ultima volta. Quindi questo Raemon sa chi siamo. Which is nice. Ma dobbiamo fare fuori prima questo stronzo, perché è un mago. E mi pare che ci sia uno che tira frecce di veleno. È lui, 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 lui. Perfection. Tira io addosso qualcosa. Edwin. Yes, I'm disturbing you. Go. Edwin. Piccola. Ah ok, l'avete ucciso tutti. Uccidete a questo. Tu uccidi lui. Ok. Uccidete tutti lui. Ok, siamo più forti di quanto non pensassi. Questo è un combattimento che è uno dei combattimenti che la prima volta che lo feci per me fu difficilissimo. Lob Goblin specialmente mi dava grandi difficoltà. Adesso probabilmente mi rendo conto che magari ci sono arrivata in un momento in cui ero particolarmente impreparata. Ma, e beh, la prima volta che ho giocato, vabbè, la prima volta che uno gioca a Baldur's Gate penso sia un pochino un trauma sempre comunque. Abbiamo, abbiamo dei contenitori. Usiamoli, direi. Dov'è il contenitore delle pergamene? Allora, questa ha il contenitore delle pozioni. E facciamogliola usare. Perché le stavo tenendo questa da parte? Non mi ricordo più. Non ha importanza. Chi è il contenitore delle pergamene? Tu. No, il contenitore è Edwin. Poi, poi decidiamo cosa imparare e cosa no. Questo lo possiamo dare a lei. Ha un sacco di roba da metterci dentro. Dando anche a lei. Un sacco di roba da metterci dentro. Queste bellette pietre preziose sono ovunque. So cute. Benissimo, questo pozioni non ce l'ha lui, ce l'ha lei. Eh, però forse facciamo prima fare così. Perfetto. Voi come siete messi? E insomma... Vabbè, meglio di prima. No, quindi vai qui. Prendi questi. Da un'altra. Qua non c'è nulla di che. Uh! What is this? Un arco lungo. Possiamo identificarlo. No, non lo possiamo usare, giusto perché siamo ladre. Arco lungo dell'abilità di tiro. Colpo fatale. Tac, 0 più 3. Danno più 2. Fattore velocità 5. Questo è un bellissimo arco. Mannaggia. Potremmo effettivamente darlo a lei. Questa cosa era? Il fenditore. Ah, ok. Questa era quella contro i non morti. Potremmo effettivamente darlo a lei, che può essere un arciera non male. Considerato... Considerata anche la sua destrezza. Potremmo qualcosa? Ehm... Peter, try to keep up. Ok. Parliamo con Ender Sai, che appunto è quello che ha citato il tizio dicendo che ha messo i bastoni tra le ruote al trono di Ferbo per l'ultima volta. È giunto il momento, vero? Ma hai visto che li ho appena uccisi tutti? Come fai a pensare che io sia dalla loro parte? Il momento per cosa? Spiegati. La mia esecuzione, cosa credi? Ma tu non stai con lui, vero? No. Se lo fossi, sentirei il tanfo del suo alito arancido su di te. Hai ragione. I miei compagni ed io non siamo i tirapiedi di Tasok. Cosa sta succedendo qui? Già, non lo siete. Beh, tutta questa faccenda è sporca fin nel midollo. Ecco cosa sta succedendo. Questi qui non sono i soliti banditi. Questi sono in parte artigli neri, in parte gelo. Una banda di umanoidi, perlopiù hobgoblin, guidati da quella astuta bestia, Arden or Crash. Ce ne sono altri in giro, come quel sacerdote Mulahey, inviato a contaminare le miniere di Naskel. Eh, Mulahey, Mulahey è storia ormai. Si è presentato come un dio dei koboldi re di vivo, a quegli stupidi cani senza cervello che gli hanno creduto in massa, pronti a seguire i suoi ordini finché morte non li separi. Ah, possiamo rispondere solo questo. Mulahey è morto. Lavorava per Tasok, da quel che ho capito. La domanda è, per chi lavora a Tasok? È qui la fregatura, capisci? C'è Crash che Tao God's Kozan, capo degli artigli neri, credono che prenda gli ordini da Gizent, e Tasok non fa molto per scoraggiare questa linea di pentiero. Ma gli artigli neri e i gelo sono gruppi di banditi, capisci? Tormentano le vie del commercio ed evitano le città, ma è qui che sbagliano. Io vengo da Baldur's Gate. E posso garantirti, sicuro come la morte, che gli zentari non sono dietro a questa faccenda. Come puoi esserne così sicuro? Il desiderio di essere discreto non è l'unico motivo per cui porto stivali con suole morbide. Li porto anche per sapere a chi pesto i piedi. Non mi sono mai mischiato con gli zentari. Sceglievo bene i miei nemici e me la prendevo con un gruppo e uno solo, il Trono di Ferro. Ed eccomi qui, in gran forma, nella veste di prigioniero personal di Tasok. Fa un po' tu i conti. Il Trono di Ferro. Dove posso trovarli? Tasok visita regolarmente il bosco ammantato. Perciò partirei da lì se fossi in te. Inoltre ci sono alcuni documenti in questa cassa a cui potrebbe valere la pena dare un'occhiata. Ora va a prestare i piedi a qualcuno, d'accordo? Puoi dir loro che ti ha mandato Endersai. Allora, questa cassa, se non ricordo male, ha una bruttissima trappola. Vediamo se riusciamo a identificarla. A individuarla, cioè. Eccola qua. Ah, è anche aperta. Eh, non abbiamo tutto sto spazio, mi sa. Proviamoci. Eh, infatti. Cosa? Biconi e Shartil stavano avendo una... Oh! Questi cosi mi prendono sempre di sorpresa. Mulahey e Tasok si sono rivelati essere poco più che fantocci. Il vero maestro di questo scuro mistero continua a sfuggirti. Una cosa è certa, qualcuno ha un interesse del tutto personale nell'ucciderti, sebbene tu non sappia il perché. La tua ricerca di risposte continua e hai il presentimento che il bosco ammantato sia la tua prossima destinazione. Perfetto. Il diario è stato aggiornato, siamo al capitolo 4. Però non vi preoccupate perché le cose del capitolo 3... ...perchè è ancora aperta come missione? Boh. Comunque diciamo, non vi preoccupate perché le missioni dei capitoli precedenti le completeremo. Leggiamo le lettere. Tasok, spero che tutto vada per il meglio. Ti scrivo per darti le istruzioni dei nostri superiori. Mi è stato detto che una piccola banda di mercenari potrebbe creare qualche problema al trono di ferro in futuro. Tocca a te garantire che non vivano abbastanza per ostacolare i nostri piani. Ingaggia Nimbul l'assassino. Dovrebbe servirti bene. È stato proprio utile Nimbul l'assassino. Ve lo ricordate Nimbul? Non ve lo ricordate? Non è durato assai. Tasok. Ho notato che i carichi di ferro sono diminuiti ultimamente. Per noi è di fondamentale importanza e riceve un'altra tonnellata di metallo. Intensifica le tue incursioni e porta il carico alla nostra base nel bosco ammantato entro la prossima decade. Dobbiamo accumulare il più ferro possibile prima che venga dato l'ultimato. Inoltre Sarevok vuole sapere cosa è successo alla banda di mercenari. Sono stati uccisi? Sarà meglio che ti assicuri che lo siano perché Sarevok non accetterebbe di buon grado qualcosa di diverso. Da'Aveon o Da'Aveon. Qua come si legge. Tieni. Devo dire che sto apprezzando moltissimo la nuova velocità. Tra l'altro mi sono scordata ma devo ringraziare Nemo che mi ha segnalato il mod. In realtà è un mod molto interessante che contiene tantissime migliorie, tantissimi cambiamenti. Io ne ho portato solamente quelli che ritenevo assolutamente indispensabili per fare qualcosa di meglio. Ora, io ricordavo che questi benedetti banditi mi attaccassero tutti quanti. A questo punto non lo stanno facendo, sono un attimo per testa. Perché non mi stai attaccando? Perché sento un po' di qua? Bandito, bandito, bandito. Che devo fare per essere attaccato da voi? Cioè potrei andarmene e lasciarli qui? Ma no, ma stiamo scherzando, ma cosa? Ma assolutamente no, ma adesso li sterminiamo tutti. Cioè, questo è tutto il... Sì, questo è tutto il posto. Cosa c'è qua su? Siete assolutamente sicuri che non mi dovete attaccare? Oh, vabbè. Non fa niente. Li uccidiamo tutti. In ogni caso, parliamo con lui. Allora, com'è che ci eravamo fatti attaccare da tutti facendo questo, giusto? Benissimo, facciamolo. Abbiamo un attimo tempo a Viconia di curare lei. In verità, forse potremmo anche riposare. Non so se ce la facciamo senza riposare. Proviamoci. Beh, questo non possiamo lasciarla. E lo sapevo che ve la sareste presa con me. Non so che vi credete di essere, ma... Ecco qua, morite. Oh, poverina, tu stai morendo pure, però. Ottimo. Adesso dovrebbe attaccarci tutto l'accampamento. Io onestamente ricordavo che loro ci avrebbero attaccato a prescindere. Ops, no, ho sbagliato. Beh, ho sbagliato relativamente, nel senso che lei è troppo carica, perché lei è molto debolina. Oh, non le avevo messo questo. Ma come? Ma ve lo ricordate che l'altra volta ci avevano attaccato tutti? Ma che sta succedendo? Tu sei Tersus. Eh, vabbè. Proviamo a far incazzare Tersus. Anche se proverello lui un po' mi dispiace. Ecco. Ok, ora dovrebbero avercela tutti con noi. Oh. E' tanto chiedere un po' di odio. Allora, voi due vi dovete togliere dalle balle proprio subito, immediatamente, seduta stante. Tu stai morendo, ed è colpa mia, perché effettivamente... seguite, seguite questo, tirete questo, fai il giro, tesoro, fai il giro, spostati, spostati, spostati. Ok. Ecco dove possono, può esserci di aiuto. Questo benedetto arco. Vai, freccialo a distanza. Arden o Scratch l'abbiamo già ucciso, mi sa. E' andato giù abbastanza in fretta. Comunque io ricordavo che una volta terminato lo scontro nella tenda di Tasok ci attaccassero tutti. Invece no. Sono un po' perplessa, però. Va bene. Non ci lascia nulla di che, Arden o Scratch? Scalpo. Perfetto. Ma potrei dormire qui in questo momento, in questo istante? Sì. Benissimo. Ti dispiace fare uno di questi a lei? Grazie. Qui? Dove sono finiti i banditi? Oh, va bene, 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 bene. Ottimo, andate piano perché qua è pieno di gente che dovreste ammazzare. Cioè, credevo fosse pieno di gente da ammazzare. Biconia, tesoro, se fai il giro li becchi. Lui è abbastanza duro da andar giù. Anzi, ho sbagliato, volevo provare un'altra cosa. Prova a fare il terrore. Tu tesoro Viconia, prova a salvare lui. Spostati. Oh, porca miseria, lo sapevo. Ok. Venite. Vieni, 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 vieni. Ah, i banditi sono territoriali, non mi seguono. Ok, lui dovrebbe seguirmi però. Ah, io... Ah, ma sarà sta pigliando proprio con Viconi. Ecco, vedete, Bramven era... Oh, ma... Ah, ah, ah... Wow. Wow. I mean, wow. Ok. Ok. Va bene. Va bene. Hai preso la doppia arma? Sì. Ah, mancato un colpo critico, lei. This is bad. Spostati. Ottimo. Bravissime. Bravissimi. Allora, lui ci ha lasciato un bel po' di cose. Un paio di pozioni, non mi ricordo chi ha il coso delle pozioni in questo momento. Tu hai sicuramente questo e anche un paio di oggetti interessanti. Tu hai il coso delle pozioni, io sto dando tutte le pozioni a lei, ma ce l'ha a lui. Invece, chi ha il coso dei gioielli, lei ha il coso dei gioielli, dalla lui. Tu perché sei debole? Perché ti ho dato una cosa di troppo. Mettiamo un po' di gioielli fuori dai piedi. Dai, anche questo. Micro management dell'inventario. Non è bellissimo? Questa è una corazza di piastre completa. Ora, non ricordo se qualcuno... Ecco, lui per esempio sta ancora utilizzando... No, lei non può portare neanche questo, però forse può portare questi. Esatto. Questa corazza di piastre completa dovrebbe essere praticamente come quella Ankeg, credo. Infatti. Però ovviamente pesa molto di più, perché questa pesa 70. E' comunque migliore di quella che ha lui in questo momento, quindi gliela mettiamo. Adesso penso che lui sia effettivamente... Lui abbia l'armatura più protettiva del gioco. Benissimo, adesso possiamo proseguire e uccidere tutti i banditi maledetti. E dove sono i banditi? Ma dove sono i banditi? Non ho mai fatto un accampamento dei banditi in questo modo. Cioè, mai fatto un accampamento dei banditi in questo modo. Perché tu sei quello che ha l'inventario più libero e nello stesso tempo che può portare più peso. Di solito a questo punto l'accampamento dei banditi era tutto contro di me e mi attaccava da tutte le parti e non si capiva nulla. E che abbiamo due nemici qua. Ma dove state andando? Ma che state facendo? Ah, questo stronzo è quassù, ho capito. Allora, l'abbiamo preso. Non vi preoccupate. Allora, ma credo di aver eliminato tutti i banditi a questo punto. Io sono un po' basita. Qua siamo stati in Italia. Va, esploriamo a sotto del lago. Oh, abbiamo dei banditi maledetti. Abbiamo anche dei non morti. Porca miseria. Wait a second. Ok. Post. Tesoro. No. Non tu. 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 Io mi piacerebbe molto che tu potessi... Ma questo non ha senso. Fai questo. Tu per favore prenderla con lui. Allora, no. Voi potete prendervela con questi zombie. Adesso tu, tesoro, puoi riprenderti l'arma contro i non morti. E tu, Viconia, proviamo di nuovo a fare lo scacciare non morti. Vediamo quanto sarà utile. Forse effettivamente ha fatto qualche danno questo benedetto coso. Muori. Muori. Salviamo. Vai, adotasto. Salviamo. Altro bandito. Ehi. Tesoro, spostati. Ok. Allora, queste sono rovine, ma non particolarmente... Ma porca miseria. Grazie di averlo uccisi. Ok, non credo che questi abbiano molto. Andiamo di qua. Un altro scheletrino. Perfetto. Vedete com'è più rapido esplorare le aree in questo modo? Andiamo anche... Andiamo da questa parte. Qui abbiamo il nostro sentierino. Aspettate, perché mi manca tutta questa parte qui. Venite qua. Dovrei in realtà anche dormire, perché... No, lascio stai stare gli orsi. Ma mi piace quando gli orsi stanno insieme a gruppi, cioè non capisco. E poi il gioco decide... E qui sponiamo un paio di orsi. Così. Per dare... Per far piacere all'area. Un bandito. Bandito maledetto. Un altro bandito. Un altro bandito maledetto. Shartil sta leggermente crepando. Uccidetelo. Un altro ancora? Dove erano nascosti questi? Erano ai margini del campo. Molto... Dislocazione molto utile. Utile. Allora, qui è andata. Torniamo di qua. Forse mi conviene dormire. E sarebbe comico se il posto si ripopola. Appena dormiamo. Non abbiamo granché qui. Cosa c'è nella mappa da questa parte? Allora, mi sa che non c'è assolutamente nulla a nord. Proviamo a uscire, ma... Infatti. Credo in realtà non ci sia nulla neanche da questo lato. Infatti, no. Qui non possiamo andare da nessuna parte. Il bosca ammantato invece sta da questa parte e non è raggiungibile perché penso dobbiamo raggiungerlo da qui o da qui. In ogni caso, direi, possiamo anche resistere un attimo. Direi adesso di andare a Beregost, di vendere, identificare, fare tutte queste cose noiose. E poi di dirigerci, invece che al bosca ammantato, in queste tre aree che abbiamo lasciato indietro. Quindi farò tutto quello che devo fare a Beregost. Ci rivedremo o qui, se c'è qualche quest, qualcosa che... Sì, possiamo anche saccheggiare al Gernon. Quindi probabilmente ci vedremo lì. Oppure, appunto, ci vedremo direttamente in una di queste aree. Allora, mentre ero a Beregost a fare i compere, ho fatto un po' di ragionamento e ho deciso quale sarà praticamente l'itinerario che seguiremo per queste nuove aree, per le prossime aree, insomma. Ci troviamo in quest'area qui. Non so se ve la ricordate, è quella dove abbiamo incontrato l'archeologo che cercava quest'idolo. Abbiamo aiutato il suo collega... Dov'è finito il suo collega? Eccolo qui. Il suo collega Gallor, traditore, a fare una strage. E avevamo però lasciato l'idolo indietro perché compariva quell'essere abominevole che non riuscivamo a sconfiggere. Proviamo a sconfiggerla adesso perché... È stata aggiunta nella Enhanced Edition un'utilità, diciamo, a questo idolo. Utilità molto relativa. Comunque è stata aggiunta questa picca che vorrei farvi vedere. Quindi, prima di tutto, riposiamo perché abbiamo fatto un viaggio molto lungo. Perfetto. Salviamo. Entriamo dentro. Allora, premetto che non credo che riusciremo a colpire fisicamente questo... Questo tipo, però... Forse ci possiamo riuscire con la magia. Io... Cosa? Ok, Shartil, questo è il momento meno adatto in assoluto a quello che stai facendo. Tu, quello alto, scuro e imbecille. Penso parli di Dorne. Affrontami in duello, ne ho avuto abbastanza di te. Non ho tempo per quelle della tua risma. Sì, questo è stato aggiunto nelle Enhanced Edition. Oltre a essere un uomo, sei anche un codardo? Avanti, sfodera la lama. Ma davvero lo stai menando? Vi state menando? Nooo. Allora, questa cosa può succedere? Io non le posso controllare. No, non le posso controllare. Ma Mola ucciderà. Senza pietà, proprio. Bah! Un colpo fortunato, ma riconosco la tua vittoria. Shartil, hai fatto un danno. Un danno incredibile. Serve che vi dica cosa penso di questa tipa? In questo momento. Va bene. Sprechiamo i nostri incantesimi di cura per questa cretina. te ne è rimasto un'altra? Usalo. Andiamo. Salviamo. Sprechiamo le divinità. Allora, adesso abbiamo questo benedetto idolo. Stavo dicendo che non credo che riusciremo a colpire il tizio con le armi, ma dovremmo riuscirci con gli incantesimi, penso. E a posteriore avrei fatto meglio a mettere un altro dardo incantato a lei, però non ha importanza in questo momento. Proviamoci. Eccolo lì. Allora, io vorrei che tu ti spostassi qui, per esempio, e tu ti mettessi... No, tu stai fermo dove sei, Edwin. Ok. Allora, tu ti puoi mettere più qua, e tu ti puoi mettere più qua. Allora, lui dice questa cosa incomprensibile, noi gli diciamo cosa stai cercando di dire. Parla, vedola se possa aiutarti. Aiuto? Nessun aiuto per me. Non so come dovrei leggere questa battuta. Solo sonno, sonno eterno, dell'oblio, morte degli dèi, l'idolo ti prende mentre tieni, lo reclamo, oro l'antola osa, cosa? Vabbè. Davvero non mi sento granché... Le voci stanno urlando! Il sangue, perché ha la voce! Va bene. Allora, tu lo f'tagni, lo facciamo subito. Allora, voi tutti uccidete lui, tu per favore uccidi lui, anche tu, guarda, uccidi lui, Edwin togli e ti dà le balle, tu tesoro uccidi lui, tu prendilo a dar dati. Mi pare che un pochino abbia funzionato. Esatto. Mentre gli altri non sono riusciti a colpirlo. Questo appunto è un problema, ma adesso vediamo se riusciamo a risolverlo. Esatto, anche tu, lascia stare quel demente, vieni qua, voi altri colpitelo tutti. Edwin, tu? Bene. Ce la possiamo fare, secondo voi? Maio. Edwin gli fa abbastanza danno, in effetti. Chissà se, oltre ai darti incantati, è vulnerabile a qualcos'altro. Il dart incantato è un incantesimo molto, molto utile. Resisti un po' K'gain? Non resiste K'gain. Spostiamo K'gain. Edwin, ne hai un altro. Ne hai ancora tanti. Qualcuno l'ha colpito. Shartil l'ha colpito. Shartil, da una parte mi fai un danno, dall'altra fai una cosa bellissima. Sono contenta. Ok, l'abbiamo ucciso. Qualcuno è anche passato di livello Dorne, è passato di livello ottimo. Allora, lui non ci ha lasciato nulla. Spostatevi. Però ci ha lasciato qualcosa il tipo. No, proprio tu. Neanche tu. Vieni tu. Però che, non mi ricordo se ci sono cinture che aumentano la forza, ne vorrei mettere una a lei, assolutamente. Comunque, adesso abbiamo l'idolo con noi. Ce l'ho io. Adesso lo daremo subito a Edwin, perché non ho spazio nell'inventario. Abbiamo quest'idolo. Lo useremo presto. Adesso ci dirigiamo a Hulkaster, però prima vorrei far passare lui di livello. Allora, punti feriti addizionali, conoscenza aumentata. Abbiamo un punto abilità. Abbiamo messo la spada a due mani, non possiamo andare oltre. Lo stile arma a due mani, non possiamo andare oltre. Bene. E vabbè, direi un'altra spada lunga che devo fare. È un po' un peccato che non possano specializzarsi le altre classi, come il guerriero. Proviamo a riposare anche. col calare delle tenebre, la tua mente ritorna ai recenti eventi e ai meritati successi. I temuti e famigerati banditi che hanno terrorizzato l'intera costa sono come polvere sotto i tuoi piedi. Avanzi a grandi passi nel loro accampamento, ignorando i loro attacchi, sbaragliando tende e corpi. Vai più avanti. Oh, posso mandarlo più avanti? Non appena la terra si apre per accettare il tuo passaggio, i tuoi ricordi vengono interrotti senza impatto o rumore. Che vuol dire questa frase? Le rocce che cadono la cascata e la ghiaia ti impediscono di scappare e in un momento tutto diventa nero. Per quanto ne sai, hai raggiunto il centro del mondo. Le pareti intorno a te si illuminano e lentamente prende forma una caverna, sebbene tu non riesca a vedere al di là di qualche passo. Avanzi incespicando e ti ritrovi faccia a faccia con te stessa. Davanti ai tuoi occhi c'è una statua di pietra, a te identica, in ogni minimo dettaglio. Una voce nell'oscurità ti accusa, pur suonando divertita. Questo orgoglio è immeritato, grande conquistatrice, quando il tuo intero essere è preso in prestito. Prendi quando devi prendere, dai quando devi dare. Un pugnale d'osso sorge dall'oscurità e colpisce in pieno la statua, su cui compaiono diverse crepe. Il dolore che senti tuttavia ti fa pensare che sia tu ad andare in pezzi. Sei come sei, ti rimprovera con sarcasmo la voce e sei anche irriducibile in frantumi. Precipiti all'indietro nel vuoto e non riesci a riposare fino al sopraggiungere del mattino. Abbiamo ottenuto la caratteristica speciale orrore. Bene. Benissimo. Abbiamo curato tutti e adesso se ne possiamo andare a Ulcaster. Venite, venite, venite. Ah, che goduria questo mod. Ovviamente ci becchiamo anche questo. Oh mio Dio. Vabbè, uccideteli tutti. Sono tentata ogni tanto di lasciare queste minutaglie qui. ma lo so che se io lo faccio voi mi uccidete. Lo so. Lo so. Oh che palle. Lupo feroce. Edwin, togliti. Tu togliti. perché te la sei presa con me? Avete visto che ha cambiato bersaglio. È stato un nemico con uno sprazzo di intelligenza. Ha detto me la devo prendere prima con la cera che è più debole. Riusciamo ad arrivare a Ulcaster? Però non so se avete notato come abbiamo fatto il giro. Perché in realtà i personaggi se non sbaglio si muovono di area in area quindi possono fare tipo questo percorso qui o questo percorso qui. Credo comunque si spostino non nel vuoto insomma. Non in linea retta. Potrei pazienza sbagliarmi però io di solito arrivavo ad un altro punto in quest'area. Oh 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 ok. Forse in effetti questo mod di velocità con la mia tendenza a non curarmi di dove sto andando non è che sia proprio vabbè vuol dire che mi costringerò ad essere più attenta che forse è la cosa migliore. Allora sono tutti stanchi distrutti però vediamo se riusciamo a fare qualche un pochino di aria prima di dormire again. Immediatamente. Ok possiamo andare giù? Scheletrini maledetti. con chi ce l'avete voi? Prendetevela con lui. Adesso allora tu puoi fare questo. Viconia amore ecco. Ah abbiamo sciarmato questo scheletro col potere di Viconia wow è la prima volta in assoluto che questo potere mi serva a qualcosa ma non è vero è servito anche l'altra volta però è la prima volta che fa questo effetto di charme box fuori grazie possiamo salvare possiamo andare un po' più di qua cosa abbiamo nulla il vuoto ok oh mio dio qui abbiamo degli hobgoblin benissimo vieni qua tesoro da un'altra una volta sapevo anche cosa significavano le frasi che dicevi Viconia ma l'ho dimenticato l'ho dimenticato avevo trovato un una piccola grammatica della lingua draw e ne avevo imparata un po' però è stato tanti anni fa e non me la ricordo più tristezza tu ti rendi conto di essere a quattro passi da degli hobgoblin e ti piace lo spettacolo è divertente evidentemente deve esserlo direi che forse siamo abbastanza potenti anche per quest'area questa è una delle aree che ricordavo difficili non come Firewine che è quella che io ricordo come la più difficile forse tra queste qui voglio dire non in assoluto però comunque anche questa la ricordavo complessa non mi ricordo chi ha la cosa delle pietre comunque sia comunque sia la può la può tenere questo si possono unire vabbè queste frecce le possiamo anche usare parliamo parliamo con questo Wilco vediamo chi è devo assolutamente raggiungere l'an Baldur's Gate richiede che finiscano gli assalti alle sue carovane di mercanti consegno messaggi con velocità e precisione ma l'ultima volta che ne ho ricevuto uno l'an richiedeva la stessa cosa a Baldur's Gate ci deve essere qualche persona confusa da qualche parte ma non è mio compito pensare devo correre quindi questo mercante scusatemi questo messaggero sta dicendo che Baldur's Gate pensa che sia responsabilità dell'AMN che i banditi assaltino le carovane e l'AMN pensa che sia responsabilità di Baldur's Gate noi ovviamente sappiamo che ci sono gli artigli del gelo e come si chiamava l'altro gruppo no scusatemi i gelo e gli artigli neri dietro questi assalti e sappiamo che li guidava li guida scusate tale Tazok li guida perché ancora vivo Tazok e non si sa per chi Tazok lavori come abbiamo non scoperto poco fa nel campo dei banditi qui non sono andata venite qua e ci arriverete anche velocemente perché abbiamo questo mod magnifico guardateli in verità avrei potuto anche mettere il massimo della velocità sapete perché why not voglio dire chi se ne frega più veloci vanno meglio è venite più qua uno scheletri e tu chi sei? furret 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 no non andare tu vai tu non c'è niente di utile parliamo a furret vi andanti aspettate un momento voglio parlare con voi siete degli avventurieri giusto? si siamo avventurieri perché ti interessa saperlo? buona sapersi vedete io sono un avventuriero di un certo tipo anche se non molto versato nelle battaglie mi piace rubacchiare oggetti dalle rovine dalle tane dei mostri e faccio del mio meglio per non farmi male ad ogni modo ho qualcosa che potrebbe interessarvi sono in possesso di una gemma una magica gemma io non so che farmene ma non trovo mai nessuno disposto a darmi il prezzo che chiedo a voi forse interessa? certo qual è il prezzo? costa mille monete d'oro vi aiuterà a vedere le cose per come realmente sono si potrebbe definire una gemma della visione direi che mille monete d'oro è un prezzo onesto allora in realtà è una sola perché è una pietra assolutamente normalissima quindi noi diciamo perché non la vendi per meno? non posso vendere questa gemma per meno di mille monete d'oro non ce la possiamo permettere direi che questo è un addio è un peccato che non abbiate capito il vero valore di questa gemma penso che me ne andrò per la mia strada bravo vattene cerca di intortare qualcuno più scemo di noi andiamo di qua ok mi piace molto la musica non musica di quest'area dove state andando? venite di qua bravi bravi di qua volevo andare abbiamo ancora metà mappa da esplorare è molto minacciosa questa questa cosa questa musica questa area dove vediamo il nome la scuola di Hulkaster e poi non so se è Hulkaster o Hulkaster perché l'ho sentito pronunciare in entrambi i modi uh che palle ad ogni modo questa scuola magari magari no ok forse dobbiamo effettivamente dormire comunque dicevo questa scuola appartiene apparteneva a Hulkaster che se non sbaglio era un mago molto potente e famoso che praticamente ha attirato le ire di tantissimi nemici che lo hanno distrutto potrei ricordare ovviamente male qualcosa comunque l'idea è che appunto lì fosse molto famosa avesse questa questa scuola che tra poco vediamo perché non non l'abbiamo in realtà ancora vista queste sono sono monti diciamo altopiani come si chiama questa struttura di qua non potete passare vi fa schifo passare per questa struttoia quindi lui aveva appunto questa scuola e poi fu distrutto sconfitto e quindi la scuola è diventata un posto diciamo infestato da mostri e da non morti e lui stesso come vedremo tra poco è rimasto in zona io non so se mi conviene far raccattare alla mia personaggio queste frecce ma onestamente non credo perché le frecce normali costano pochissimo e le trovo ovunque ok io tra l'altro non ricordavo i coboldi in questa zona ecco qua queste sono le rovine della scuola ovviamente è stata rasa al suolo praticamente bruciata quindi questo è tutto quello che è rimasto vedete vediamo se c'è qualcosa in mezzo a queste rovine che possiamo cliccare qui possiamo scendere scuola di holcaster ah venite più qui per favore ma 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 è appena passata lì va bene dorn per fare per prendere gli oggetti oh jesus per prendere questi oggetti bisogna un po' fare pixel hunting venite più giù visto che non riuscite a infilarvi di là oh mio dio carne è abbastanza per rendermi integro di nuovo fermo spettro rivela la tua natura mi chiamo Icarid il più grande dei guerrieri voglio vivere e gustare di nuovo il sapore del sangue il tuo sarà il primo dopo un centinaio di anni ma è un vampiro non credo perché è troppo scheletrico non capisco come si pronuncia il suo nome Icarid Icarid boh mio dio Chartill no vabbè stai a menarlo fai non abbiamo pozioni sono sicura che abbiamo delle pozioni probabilmente chi ce l'ha? tu vabbè ne volevo prendere due ma ne ho presa una va bene lo stesso nooo questo perché sono stata tirchia va bene colpa mia ops ok come ti permetti questo qui va bene rivela la tua vera natura bla bla ma nooo ok cerchiamo di rompare la stessa roda due volte eh ce la stiamo facendo comunque a ucciderlo dov'è quello scheletrino? eccolo qui ma vagano o sponano non capisco hm che elmo particolare non è non è magico ma è carino se qualcuno di voi che come fa a essere troppo lontano tu ce n'hai già uno particolare tu ne hai uno normalissimo puoi anche metterti questo questo si tipo bene era un coso normale vero dono no non era un elmo normale lol dono di pace di risalvezza resistenza no assolutamente mettiti questo ci sarà però qualcuno che tu hai quello normale esatto allora tu ti metti questo via queste frecce le dai a me mazzafrusto più uno frecce infuocate il mazzafrusto lo diamo a lui tutti questi oggetti li diamo per esempio a lei che ora si è fatta le 21 allora da qualche parte dovrebbe finalmente comparire Hulk Haster oh my god zombie gli zombie non hanno proprio lasciato nulla di nulla allora perché Hulk Haster non è qui io ricordavo che fosse oh eccolo qua questo Hulk Haster la migliore tra le scuole un deposito di arcane conoscenze perduto tutto perduto un dungeon qualsiasi ora tutti per la conoscenza lottavamo non è rimasto niente speravo tornasse con il ritrovamento del più semplice dei tomi sotto le macerie nei piani inferiori ritorna speranza la storia è così importante e ci ha dato una quest adesso nel gioco originale bisognava portargli un libro di cui non ricordo il titolo comunque era un libro ovviamente sulla scuola di Hulk Haster e questo libro si poteva trovare in vari posti non solo qui sotto ma anche in città glielo si poteva dare ma perché ma da dove vieni ma hai rotto le scatole glielo si poteva dare e la quest era considerata completata nell'inans edition invece bisogna per forza scendere e prendere un tomo che sta nel sotterraneo ovviamente l'hanno fatto per dare un senso al sotterraneo però secondo me non era male l'idea di avere comunque il libro ovunque perché è più realistico visto che lui non vuole un tomo magico raro che vuole un tomo sulla storia della sua scuola ed è molto improbabile che i giocatori lo abbiano nell'inventario perché i libri bene o male non servono quindi il giocatore non li usa spesso allora salviamo perché qui ci sono corrido i piccoli stretti e brutti andiamo avanti lei ce l'ha fatta avvenire qua questo è un pipistrellino ok ok adesso ma tu non mi stai cercando le trappole no andiamo di qua ma di qua si può andare no ok ok questa è una gelatina ocra mi pare che potesse essere colpita solo con determinate armi non ricordo se magiche o no oh quelle magiche evidentemente venite a uccidere quest'altra gelatina senape aspettate allora roderl ha un'arma inefficace ops un'arma inefficace usa le frecce più uno edwin levati dalle balle ok sì queste frecce funzionano perfetto c'è tanta roba qui vieni tu ok ok di qua non c'è più nulla vieni di qua e tutti voi venite qua ma qui c'è un cadavere ah un pugnale più uno probabilmente un po' di pozione wow allora questo è un lupo feroce allora tu spostati brava tesoro ok difficoltà a colpirlo ma neanche tanto dov'è l'altro lupo c'erano due lupi ah li abbiamo uccisi tutti e due è stato così rapido che non li ho visti no 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 vieni qua continua a cercare ma io ricordo che c'erano trappole qui dentro forse ricordo male forse erano al ponte di Firewind tutte le trappole mortali uccidete questo ragnetto oh wow ciao però devo dire che in effetti il modo di correre veloce mi aiuta in queste situazioni è parecchio oh che palle ok adesso abbiamo attivato il combattimento le pozioni sono sempre le benvenute perché ormai abbiamo anche finito quelle del tempio di 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 venite lupo feroce lupo feroce lupo feroce sì sì qua abbiamo un lupo del terrore venite tutti dove vuoi andare Dorne esattamente questo è anche un altro lupo del terrore ma qui non c'è nulla no qui c'è una trappola effettivamente ma no solo una ma non c'è nulla mi pare troppo strano tutto questo ok così imparo a lamentarmi bene molto bene venite con me venite di qua per favore no ma porca miseria pensavo che la trappola fosse sul cadavere ma porca miseria vieni vieni tesoro allora vieni qua non ti muovere non ti muovere più di così voi venite qua oh oh perfetto vieni qualcuno venga ma guardate oh mio dio lupo del terrore 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 morto ma c'è un altro gruppo di ma che palle lupo vampiro ah ok questo è come quello che abbiamo incontrato a Beregos non ti permettere oh quanto ci ha dato di 2000 puzzi esperienza con questo lupo wow siamo anche passate di livello bellissimo qui abbiamo una bacchetta di palle di fuoco e qua abbiamo un paio di pozioni allora effettivamente siamo pieni di roba qui c'è qualcosa questi sono tutti i lupi del terrore perfetto vieni tu pozione 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 frecce frecce e libero e impoverato della storia di Hulk caster allora non lo leggiamo tutto perché Luke ma vediamo un attimo se ho ragione no libro impolverato di storia di Hulk caster storia delle sorelle della luce delle tenebre vabbè questo è un ci hanno sbagliato questo è un altro libro in sostanza qui dovrebbe esserci la storia di della scuola di Hulk caster non questa roba qua vabbè questo comunque è il libro che ci serve no tesoro it's not in the bag vieni qui qui non c'è nulla vediamo da questa parte niente ok mi sa che abbiamo fatto tutta l'area vediamo un po' si ottimo torniamo qui allora beh la mia personaggio ha corso in avanti della serie usciamo da questo posto infernale perfetto andiamo a parlare a Hulk caster eccolo qua tra l'altro vediamolo meglio facciamo un po' zoom eccolo qui la conoscenza ritorna con queste semplici parole sulla pergamena da insegnare ancora una volta in una classe celeste impedirò che la stessa cosa si ripeta un giorno e ci dà mille punti esperienza ora però noi potremmo parlargli di nuovo e dargli l'idolo ritorneremo tutti in vita un giorno perché non gli dà l'idolo? scusa chi ha l'idolo? a chi l'ho dato? a Edwin? si dammelo ma sono confusa perché non sta funzionando che abbiano tolto questo no questa è una cosa della enhanced edition fatemi fare qualche ricerca ok ho capito cosa c'è che non va praticamente ci manca un oggetto io avevo dimenticato che non serve solamente l'idolo ma serve anche un'altra cosa che si trova al ponte di Firewan alle rovine di Firewan quindi adesso ci dirigeremo qui ora queste due aree io ricordo essere collegate quindi credo in realtà che potremmo fare prima il villaggio e poi il ponte vediamo se mi serve un attimo riorganizzare l'inventario e forse sì ecco qua chi ha le pozioni tu hai le pozioni ok allora riorganizzo l'inventario e poi ci vediamo appunto al ponte di Firewan ed eccoci arrivati a Gallikin l'area subito a nord del ponte di Firewan perché ci siamo diretti qua? perché questo è un villaggio molto particolare che è legato alla zona che dobbiamo esplorare cioè il ponte di Firewan e voglio farvela vedere per primo insomma questa diciamo è l'area pacifica collegata all'area meno pacifica ho anche lasciato da parte il passaggio di livello della mia personaggio che facciamo adesso abbiamo incantato benissimo abbiamo tenuto più punti ferita perfetto qui direi andiamo a 100 quant'è il massimo che posso mettere? chissà che posso mettere tantissimo massimo cioè non penso ci sia un ma non mi ricordo se c'è un massimo o sono confusa? beh questi li possiamo mettere qua ok abbiamo altri incantesimi quindi qui possiamo mettere un altro dardo incantato decisamente di livello 3 possiamo mettere oddio andiamo con i nuovi magie per favore perfetto lui cos'ha? due frecce infuocate e un charme estremo non ho ancora fatto imparare a lui la palla di fuoco perché ho un po' timore di non trovarla più e sono un po' indecisa però vediamo comunque vedremo allora esploriamo quest'area qui abbiamo Gandolar Luckyfoot come vedete questo è sono tutti helpling perché questo è un villaggio di helpling lieto di incontrarti viandante sono Gandolar Luckyfoot a tua disposizione a cosa deve il nostro piccolo villaggio il piacere della tua visita sei diretta alla torre di Dorlag oppure ci sei già stato e ora hai bisogno di farti curare le ferite molti avventurieri vengono in città prossimi alla morte noi diciamo allora non voglio essere scortese con questo povero cristiano che mi sta parlando no diciamo al momento non mi interessa la torre non quando preferirei visitare il tuo bel villaggio prego fatti pure diamo il benvenuto ai visitatori che hanno storie da narrare ed estendiamo a tutti la nostra ospitalità speravo mi dicessi di più sul villaggio se posso trattenerti un momento di più o una proposta da farti in genere i dintorni delle rovine di Firewind sono tranquilli e poi adesso che ci penso è Firewine e non Firewind come ho detto finora l'ho sempre pronunciato Firewind ma forse Firewind perché sarà vino di fuoco pur avendo un violento passato i morti e coloro che non conoscevano riposo hanno col tempo trovato la pace scusatemi se torno alla pronuncia di Firewind questi sono retaggi di quando uno gioca il gioco senza conoscere l'inglese e legge un po' a mezzo a mezzo secondo me è Firewind con quella banda di koboldi che si è stabilita laggiù a Firewind ora c'è un pericolo reale forse potremmo convincerti a liberarci da questa minaccia in cambio riceverai da noi un dono potrai anche tenere qualunque cosa troverai è molto generoso allora non avete Hellling coraggiosi alla testa del compito non può essere abbiamo un certo numero di intrepidi scavatori ma sono le prese con una banda di goblin e non è previsto che tornino per un po' sarebbe meglio che le creature delle rovine fossero cacciate via prima che diventino una minaccia vuoi aiutarci? allora non voglio rispondere alla seconda perché non voglio assolutamente che mi sialzi la reputazione quindi andiamo di dammi 100 monete a dole ci penserò abbiamo soltanto quello che ci procura da Lilia da Lilia e poco più il dono che riceverai sarà appropriato alla missione ai nostri mezzi farò del mio meglio per aiutare la piccola gente coraggio questa frase secondo me è profondamente razzista io protesto perché non è giusto chiamare gli Hellling piccola gente solamente perché sono bassi di statura come se fossero dei bambini che quindi vanno aiutati perché speciali no posso indicarti la strada con piacere ma devo anche metterti in guardia potrebbero essere ma figlio però deciditi vuoi che ti aiuto col tuo problema e che quindi rischi la mia vita oppure no se ti preoccupi della mia incolumità è inutile che mi mandi coerenza potrebbero essere alcune strane creature che si aggirano all'intorno e ho sentito dire che sono un po' più astute delle normali bestiole ma io sento sempre molte cose va nella cantina nel seminterrato lì proverai una porta segreta va bene nella cantina nel seminterrato bobo tra l'altro non c'è detto di quale casa ma noi esploreremo lo stesso tutte le case allora vedete le case di questo posto sono microscopiche because helplings quindi sì no cosa sto facendo storia del vast non ci interessa forse è un po' eccessivo a chi ho dato questa roba sì vi avevo detto che avrei aggiustato l'inventario e poi non l'ho fatto è andata così è andata proprio così oggi oggi la mia capacità di cliccare il posto giusto è deficitaria storia del fiume dell'unicorno storia della vallata degli dei ok qua non c'è più nulla da qui non c'era neanche il seminterrato di cui ci parlava lui quindi non credo proviamo a parlare a uno di questi helplings generici potrebbe esserci una grande ricchezza dietro alla nostra cara gallicine ma da Lilia la provvidente ci dà quello di cui abbiamo bisogno cosa ci importa del resto ah ok da Lilia sarà la loro dea quindi tipo una dea helplings helpling uh c'è un essere c'è un helpling ma se io rubo lui si arrabbia no non si è arrabbiato e allora devo essere sincera dovrebbero essere un po' più coerenti con questo fatto di di quello che si può prendere non prendere perché ecco mo' ce l'hanno visto per esempio qualcuno mi spiega il senso quindi se io lascio vabbè diamogli 200 monete d'oro non si fanno corrompere ci vogliono menare carichiamo quindi io posso guardare qua però ok qua questo è chiuso qua vedete qui non ce la piglia nessuno non c'è coerenza quindi se io lascio una collana in un cassetto aperto posso cioè sto dicendo che voi potete prenderla se io lascio la collana nel cassetto chiuso a chiave allora non potete prenderla non fa una piega questa è una fionda più uno che ops possiamo andare a lui perché gli altri non li ho fatto entrare entrate no tutti cioè era chiusa a chiave e non c'era neanche nulla dentro mentre hanno lasciato i soldi all'aperto vabbè e non si può avere tutti l'intelligenza bisogna purtroppo è una risorsa limitata quando Dio ha creato il mondo è andata così lui aveva un sacchetto di intelligenza e ha detto eh questo non basta per tutte le mie creature come facciamo e altri avranno altri doni e così fu che alcuni helfling si fecero rubare tutti i soldi venite qui allora forse lui parlava di questa casa che mi sembra un po' più grande delle altre vi dispiace entrare in questa casetta? grazie no via oh quanto sono stupida sì sì hai ragione oh non avevo neanche salvato entrate cielo ok qua possiamo prendere perché è aperto mannaggia perfetto andiamo via questi sono tutti i helfling generici io ricordo che vi erano un paio di helfling non generici qui possiamo entrare in questo posto vicino sì possiamo entrare qui non c'è nessuno abbiamo derubato il piccolo villaggio helfling adesso abbiamo questo posto qui e credo qua possiamo entrare no possibile che questi erano gli unici posti degni di nota ma tempio di yondalla e vini pregiotti di alvanhendar vabbè entriamo non chiudete entriamo entrate oh my god siamo entrati qui abbiamo tale alvanhenda e chi va là altri pazzi coraggiosi che si gettano in battaglia immagino che abbiate bisogno di cure o cosa del genere in modo da trattare qualsiasi ferita abbiate riportato cogliendo al volo ogni occasione di farvi male beh la provvidente provvede la provvidente protegge ma non mandate all'aria il superato troppo presto e state lontane dalle botte di birra a little man non sfugge nulla e vi caccerò fuori men che non si dica se toccherete anche un solo tappo di sughero nella mia dimora spirituale vabbè vediamo che cosa abbiamo da offrire che cosa lui ha da offrire cioè lui è un tempio normalissimo semplicemente fanno anche il vino saranno sempre molto allegri adesso noi andiamo nello scantinato che è quello che evidentemente quello di cui parlava il tipo e qui abbiamo questa porticina segreta ora questa porticina ci porta effettivamente a Firewine però io non voglio arrivarci in questo modo volevo farvi vedere appunto questa porticina di connessione però adesso noi usciremo da quest'area uscite avete difficoltà a entrare e uscire da questo tempio sto notando noi usciamo da quell'area e terminiamo di esplorare questa e dopodiché ci dirigeremo manualmente al ponte di Firewine perché voglio farlo praticamente dall'altra entrata ovviamente è possibile che un giocatore si imbatta prima nel ponte e poi dal ponte arrivi a Gallikin oppure che prima arrivi a Gallikin e poi si imbatta nel ponte io volevo casa di Jenkal a casa di Jenkal non ci siamo stati credo io volevo in sostanza farvi vedere appunto questo passaggio segreto e esplorare un po' la cittadina prima di avventurarmi nell'altra area che è un po' problematica Jenkal cosa stai facendo nel mio rifugio per i nove inferi non so perché sei qui ma se dai per scontato che gli elflings siano ospitali nel mio caso ti sbagli quando un intruso si intruffole in casa mia lo uccido allora senti un po' gnomo discutiamo del fatto che noi siamo sei dieci volte più alti di te e tu sei un gnomo cioè un elfling ma voglio dire e noi rispondiamo c'è puzza di koboldo nella tua piccola tana mi chiedo come mai pensavo che gli elflings odiassero i koboldi oh no mi avete trovato sì sono io che ho fatto entrare i koboldi nella nostra pittoresca cittadina peccato solo che non sarai viva per raccontarla a qualcuno e vabbè lui spera di ucciderci non sa quanto si sbaglia si è sbagliato tanto si è sbagliato tantissimo e lui era appunto evidentemente un traditore in questa cittadina quindi noi abbiamo scoperto che i problemi con i koboldi che il sindaco aveva riscontrato dipendevano da questo qui ma i koboldi ovviamente restano ancora un problema e quindi dobbiamo occuparcene che seccatura avere l'inventario pieno non posso fare nulla per ridurre il mio inventario no posso fare questo ma è veramente poco ok ovviamente questo ci porta ad un'altra zona del pozzo di Firewine ma io continuo a non volerci arrivare dal villaggio quindi non facciamolo insomma mi chiedo se posso dormire qua è molto peccato che non ci sia una locanda ma capisco che non abbiano grandi ospiti ecco qua perfetto le condizioni di questo villaggio devono essere grame perché in realtà pensateci vi trovate abbastanza oddio sono relativamente vicini a Beregost perché sono 16 ore di viaggio da Beregost perché il tempio e Beregost sono nella stessa sono considerati la stessa area insomma quindi sono 16 qui e anche se non lo vedete dovrebbero essere 16 qui credo quindi non sono così lontani però sono in una zona molto più piena di mostri di problemi e sono relativamente isolati senza peraltro essere un villaggio come Beregost che invece è un si vede che insomma ha dei turisti ha quant'è locanda ha Beregost? Beregost ha il giocoliero gioviale il mago bruciato la locanda di Feldpost e poi ha anche delle taverne mi pare che ha quindi solo tre locande forse e poi un tot di taverne in ogni caso resta il fatto che Beregost può wow mio dio Beregost chiaramente vede un traffico di persone sufficienti a sostenere un'economia chiamiamola turistica o anche mercantile mentre invece questo villaggio sicuramente no e questo vuol dire anche che ogni volta che hanno un problema mentre Beregost può appunto diciamo gridarlo ai 420 con il suo crier questi poveri disgraziati di Gallikind devono aspettare che passi la buona anima benché immagino che comunque possano andare a Beregost e lamentarsi di quello che succede in effetti noi sapevamo già che vi erano dei problemi al ponte di Firewind non si può salire di qua devo fare questo giro strano ok facciamo questo giro però insomma dà un'idea di essere abbastanza isolato questo posto no no scusate ho sbagliato dovete andarvi qua questa stradina è semi invisibile molto antipatica ma che strada sto facendo boh qua non ci passate ci sono io per pretendere che ci passiate uh pieno di gente così infine ci incontriamo povera piccola Red Earl presumo che tu non abbia la minima idea di perché tu debba morire sono sicuro che tu abbia già avuto problemi con una serie di cacciatori di tagli incompetenti beh quei giorni sono finiti oggi no scusate beh quei giorni sono finiti oggi morirai la punteggiatura qui secondo me poteva essere migliore noi diciamo sono sicura che non causerai più problemi della gentaglia che abbiamo già ucciso sarai una vittima esuberante piccoletta una vittima esuberante quando morirai sappi che è stato Molkar a ucciderti allora Molkar tu spostati allora facciamo così chi abbiamo qui questo secondo me è un chierico maledetto no forse questo è un chierico andiamo prima addosso a questo che secondo me è un chierico fortemente però tu spostati e tu spostati ok questo è un chierico io lo sapevo tesoro prendi la frecciata e lui lo so che sto facendo la tirchia con le pozioni erederle però ma porca la miser ma porca la miser vabbè questo si chiama essere stupidi non essere tirchi perché io potevo tranquillamente lanciare questa questo benedetto incantesimo all'inizio del combattimento dovrei farlo sempre Dorne con chi ce l'ha chi ti odia lui ti odia ma perché ci hanno ucciso Dorne ma porca miseria va bene prepariamoci brevemente allora non credo serva questo non credo serva questo credo serva questo chi ce l'ha come si va bene il gioco ci odia è ben chiaro ma io non ricordo comunque che questo genere di cose succedesse nel gioco regolare deve essere una novità della enhanced edition cioè il fatto che i mostri sbucchino in aree che noi avevamo in pezzi di aree anzi che noi avevamo già esplorato oh ok prendetela con lui mentre tu te la pigli con lui e tu aspetti perché voglio che prendetela con lui forse ho sbagliato tesoro tu devi prendertela con lui direi un bel dardo esatto mi avete eliminato le varie immagini rifless di questo stronzo no 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 colpitelo a morte lui volcar effettivamente un poco un poco forte è edwin proviamo why not ogni tanto la magia dovremmo pur usarla voglio dire anche solo per sfizio ecco fatto allora ops scusami ok tante belle cose ci sta lasciando questo no ho una scia magica perché again no eh vabbè allora qua non ci sta più niente ma qui come si sale scusate perché non posso salire qui potete arrivare qui in qualche modo qui non si può camminare qui qui no non posso salire qui in nessun modo perfetto ma neanche qui posso arrivare scusate qui possibile neanche da questa parte dov'è dov'è questo ghost viconia not to say chartill l'acqua game viconia ma è molto strano per arrivare per arrivare alla torre di dorlag ma che peccatura lupi edwin spostati tu spostati oh my god stavamo cercando di dire la torre di darlang devo andare devo andare a nord perfetto venite tu sei un elf ring qualsiasi ok si potrebbe arrivarci così ma non ci arriviamo ancora la torre di darlang è un'area che è venuta dall'espansione tales of the sword ghost è abbastanza difficile quindi dobbiamo farla quando siamo un po' più esperti va bene non possiamo arrivare né qui né qui mi pare di capire neanche da questa parte così tanto dell'aria resta inesplorato mi sembra un po' strano onestamente adesso arriva qualche altro nemico schifoso risalviamo perché abbiamo capito che qua i nemici sbucano come conigli venite no neanche di qua va bene allora direi ridorniamo perché siamo un attimo tutti quanti con un attimo malino e rechiamoci al ponte di Firewine eccoci al ponte di Firewine allora questa è questo è l'esterno del ponte a cui c'è un tizio già bene non me lo ricordavo salve mi chiamo Bentan e sono un devoto seguace del grande Ilmater 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 non ricordo come si pronuncia qualcuno di voi segue la via del dio piangente allora Ilmater Ilmater whatever è un dio buono chiaramente che si autoflagella e trae godimento da ciò sì ecco perché mai dovremmo venerare un dio così noioso e privo di utilità no noi diciamo no nessuno di noi venera Ilmater Ilmater non lo so così nessuno di voi venera Ilmater in questo caso dobbiamo chiarire alcuni aspetti del suo culto una volta per tutte non mi interessa Bentan ascoltate attentamente mentre vi descrivo le meraviglie che vi attendono con la conversione alla fede di Ilmater oh Gesù or dunque come probabilmente avrete già sentito Ilmater è il dio della sofferenza molti pensano subito che si tratti di sofferenza da infliggere a noi stessi ma fidatevi le storie che avete sentito sono molto dozzinali e poco attendibili la sofferenza in nome di Ilmater ha sicuramente luogo ma credetemi è la più gioiosa delle sensazioni che avevo detto io apre i vostri occhi alla sagge dopo aver sofferto in nome di Ilmater dovrete riconoscere le storie del mondo come la varizia la cupidigia la dosturia la depravazione e soprattutto la magia what per magia non intendo il sacro potere dispensato da Ilmater ma quello malvagio esercitato dagli stregoni noi diciamo scusa ma alcuni di noi sono stregoni alcuni di voi sono stregoni in nome di tutto ciò che esiste di buono e santo voi dovete fermare la diffusione del male la magia porta solo dolore e miseria è un'arte malefica un'arte malvagia pur trovando doloroso stare di fronte a vili necromanti proseguirò il mio discorso non siamo necromanti comunque tutto quello che dovrete fare per diventare discepoli di Ilmater ma non mi interessa è rinunciare alle vostre ricchezze terrene per andare in giro per il mondo e soffrirete al posto degli altri diffonderete la parola così come io sto facendo con voi or dunque cosa pensate rinuncerete alle vostre ricchezze terrene per diventare discepoli di Ilmater io mi chiedo se questo bussi alle porte la domenica mattina alle 10 quando tu stai cercando di dormire no noi diciamo noi diciamo certo ci libereremo di tutto quello che possediamo proprio adesso puoi considerarci seguaci di Ilmater sono così felice avete preso la decisione più importante della vostra vita mi piacerebbe potervi guidare nei vostri prossimi viaggi ma è un compito che aspetta Ilmater che Ilmater vi benedica tutti quanti addio fattene bene bene molto bene cosa abbiamo di qua cosa abbiamo di qua picconia smetti di menare fai questo anche se ormai è troppo tardi direi perfetto c'è qualcosa di degno di nota qui no allora io ricordo che quest'area brulicava di miei amici nel senso che responano abbastanza in fretta ah qui c'è il ponte effettivamente il ponte di Firewine è se non ricordo male un villaggio una costruzione un avamposto Elficot che viene distrutto non si sa perché sia stato distrutto in ogni caso praticamente nessuno è riuscito a riconquistare questo posto e rimetterlo in utilità ridargli una sua utilità ovviamente non riusciremo neanche noi a tanto però riusciremo in qualche modo forse spero se io so giocare bene a liberarlo ah dovete fare il giro io lo sapevo non c'è nulla di qua ovviamente dovete fare il giro che è pallina però abbiamo il mod che ci fa andare veloci quindi speriamo almeno in questo vi dovete dirigere qui credo chi è rimasto indietro chi sei tu short hill ma ecco venite di qua qui sotto c'era praticamente il letto cioè questo è il letto di un fiume prima c'era tutto il fiume ma pare che nei secoli sia si è si è sparito praticamente non ricordo onestamente se la sparizione del fiume è collegata alla disgrazia successa al posto quindi alla distruzione dell'avamposto elfico però ricordo che questo luogo insomma prima doveva essere molto più rigoglioso molto più felice questa è la zona delle rovine in sostanza ok di qua non si può passare quindi direi di andare in alto e di esplorare il ponte vedete questo è il ponte una cosa molto bella di Baldur's Gate è del fatto che le sue aree sono disegnate praticamente quindi sono disegni nei quali noi camminiamo e che a differenza dei giochi in 3D che ti mettono bene o male appunto all'interno di un mondo 3D ma chi è che ce l'ha con noi ma tu che stai facendo della tua vita nulla nulla again nulla stavo cercando di dire che a differenza appunto dei giochi in 3D che ti mettono davanti a un mondo che in un certo senso tutto livello cioè tu lo vivi dall'interno e probabilmente anche in un certo senso più immersivo più realistico tutto quello che volete però la bellezza anche di questi di queste aree dipinte è il fatto che chi l'ha disegnata ha potuto scegliere la prospettiva che è più grativa e quindi in un certo senso anche le dimensioni dei posti dei oggetti sono rappresentative di di qualcosa comunque comunicano l'atmosfera dell'area nella quale ci troviamo in questo caso dov'è? ah è qua sotto non posso salvare durante il combattimento vabbè in questo caso la grandezza del ponte per esempio questo ponte immenso è ancora più visibile nel momento in cui appunto noi lo vediamo magari da questa prospettiva piuttosto che vederlo da dentro poi ovviamente capisco benissimo che anche con un gioco in 3d possiamo ammirare una costruzione particolarmente grande o particolarmente maestosa però secondo me questo tipo di visuale permette una gestione un pochino più artistica degli ambienti ecco basta morto perfetto oh la citazione è sicuramente voluta un caloroso saluto a voi amici è una bella giornata non è vero eppure da queste parti non è stato sempre tutto così tranquillo come avrete capito dalle rovine che ci circondano qualcosa come 300 anni fa questa regione subì un tragico evento ad ogni modo conosco molte storie storie di eroi e di mascalzoni che da allora hanno fatto il bello del cattivo tempo tra questi sassi posso intrattenervi raccontandovene una è un poema al quale sto lavorando da tempo basato sulle voci che mi riferiscono e sulle strane cose che vedo con i miei occhi mentre sogno alla notte che ne dite di passare la serata ad ascoltare la mia storia sì sarebbe bello ascoltare il tuo racconto continuo a cantare giovane bardo benissimo allora mettetevi a vostro agio e vi racconterò la mia storia è un piccolo racconto in versi che intitolerò i cavalieri dei giorni che furono e so che il titolo deve essere ritoccato ma nella mia opera ho messo tutta l'anima oh mio dio una poesia una canzone e ora ti racconterò la storia dei prodi cavalieri in cerca di gloria che stanchi assopiti lungo la riva si risvegliarono ahimè alla deriva questa è una storia di grande ardimento e i nostri virtuosi non senza un lamento si spinsero oltre la loro paura per vivere di notte una grande avventura non senza un lamento quindi senza un lamento non senza un lamento non senza un lamento quindi lamentandosi in realtà sono confusa a due a due impugnarono la spada e poi si avviarono lungo la strada che a loro il destino li conduceva mentre di luce il cammin riluceva io so se in originale c'erano anche queste ambiguità e queste ripetizioni ma la luce a ben poco può servire per chi con rabbia ora deve morire e in basso anche il fuoco arrivava a scaldare colui che il suo nome non voleva svelare erano tanti giovani e forti ed ora sono morti per mandi colui che la fiducia tradì ed assieme al demonio infine gioì fu l'inganno a tradire i cavalieri e l'autore fu un vile senza mestieri denaro e ricchezza fu forse il movente di chi nel suo cuore non provava più niente in ogni caso al di là di come è uscita la traduzione di questa di questa canzone tanto di cappello per chi l'ha fatto perché queste sono le cose veramente difficili da tradurre innocente del sonno di chi non temeva per quella coscienza nessuno rimordeva anche questa cosa è un po' dubbia eppure la lama impedì la vittoria dei bei cavalieri in cerca di gloria vile vigliacco gli amici tradì poi lento il cammino dei ladri seguì la sua ricchezza nessuno fece gola poiché cupidigia al fin muore sola ancora oggi le vedove sospirano che tante crudeltà ahimè subirono noi bardi purtroppo e ben poco possiamo fare se non le audaci gesta a raccontare di chi ha lasciato i figli a ricordare attenti la guardia di vedetta monta ma nella terra nel nenico incontra perché la vedetta prima o poi sarà e la rabbia infine esploderà la vendetta prima o poi sarà sono uno per tutti e tutti per uno ma il cuor ferito non ve rimedio alcuno la morte sì liberazione ma non per tutti sarà redenzione insieme andranno e insieme morranno è un patto santo come tutti sanno eppure il tempo non è clemente con chi dalla vita non si aspettava niente i miei occhi non videro ma il mio cuore spera e la storia che ho narrato è duro proprio vera e adesso tutti insieme vi invito a pregare perché i cavalieri da noi possano tornare allora praticamente lui ha raccontato questa storia di questi cavalieri che sono stati traditi da uno di loro che a quanto pare li ho uccisi tutti io questo ho capito un interessante racconto giovane bardo c'è qualcosa di vero? ah ma la verità è un po' ovunque non è vero? non ho modo di provare la fondatezza del racconto in quanto ho soltanto raccolto delle dicerie so per certo che c'è un buon risponso da parte della mia clientela quando faccio passare il cappello per molti tocco le corde giuste va bene diamogli dieci monete perché poverello se le merita siete veramente troppo gentile vi auguro un buonissimo viaggio ma che carino e non ci ha neanche alzato la reputazione come sono felice allora siamo dall'altra parte del ponte ho mancato l'entrata alle rovine no deve essere qua oppure no da dove si entra nelle rovine di questo posto o melium salve piccoletti avete l'area di viaggiatori con esperienza e alcuni di voi sembrano anche validi guerrieri mi chiamo melium e sono il più abile spadaccino della cosa della spada forse avete già sentito parlare di me sono piuttosto famoso dopo tutto no no anzi diciamo se sei un così valido spadaccino perché vagabondi per il mondo vestito da straccione mi sta insultando non osare insultarmi o ti mostrerò il metallo della mia spada una volta sguenata l'onore mi impone di bagnare la lama nel sangue perché non ti calmi no gli diciamo bene allora perché non sfodere la spada così decideremo chi di noi è il migliore spadaccino tu o il nostro gruppo ormai è deciso rimpiangerai di aver dubitato della mia abilità lo rimpiangerai molto quanto lo rimpiangeriamo secondo voi così da 0 a 10 vi do un consiglio il numero giusto è finito per Z e finisce per O 3 io non dico che uno non deve avere l'arroganza di ma che state facendo dicevo io non dico che uno non deve avere l'arroganza di vantare i propri meriti e che prima è il caso che si assicuri che siano i propri meriti o che sappia capire quando è il caso che diciamo di di cambiare idea su se stessi ecco possiamo andare qui ah questa è l'entrata del ponte no ok non possiamo andare qui allora andiamo direttamente nel ponte ora il punto di Firewine è un po' una brutta area perché è molto difficile da navigare è pieno di trappole ed è fatto di questi corridoi strettissimi quindi e quindi oh what ah ci picchia bellissimo questi mostriciattoli tra l'altro respawnano abbastanza se ricordo bene ottimo venite qua allora Viconia può prendere tutte queste robe come ha già fatto grande Viconia diciamo che ci stiamo riempendo di frecce di fuoco il che può anche essere positivo un tesoro non bere una pozione che non ne abbiamo più tante ok ma qua è un porca ma perché non l'hai vista vabbè no e l'ho fatta camminare sopra mannaggia no se volete venite tu e Dorne andate avanti qui non c'è nulla ce la fate passare ci sono trappole perfetto andiamo a distruggere questi koboldi ti calmi ti calmate venite venite oddio spostati no mettetevi qui tranquilli Biconia Uralo tu no vieni ok ok ottimo salviamo di nuovo ok 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 bu Biconia tesoro devi curarmelo ancora un po grazie sei bellissima e bravissima non tu porca miseria bene bravi che non avete colpito la trappola ottimo e se non avevano le frecce di fuoco che è già un passo avanti ora tu tieni le trappole no edwin togliti anche tu togliti voi venite chi è morto chi è morto chi sta morendo ah no è il koboldo che sta morendo eh quell'urlo mi è sembrato mi è sembrato preludere mi è sembrato preludere ad una morte imminente di uno dei miei personaggi invece no perfetto torna qui sto facendo giusto credo di sì no vedete che secca dura vanno bravi i personaggi qua dentro no no tu vieni avanti perdonate i pochi commenti in effetti quest'area mi inquieta un po nel senso che mi viene difficile concentrarmi questa è un'area infernale per quello che mi riguarda tra l'altro l'utilità dell'incapacità dell'intelligenza artificiale qui può fare danni sì ho cercato di salvare durante il combattimento non ci fate caso può fare danni incredibili perché nel tentativo di spostare i personaggi tutti in una direzione alcuni possono sbagliare strada andarsene in zone non esplorate incappare quindi in una serie di trappole insomma può succedere di tutto vedete non è sempre semplice eeeh oh my god era anche un mago l'endarn l'endarn no 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 qua è il mago che dovete fare fuori oh grazie il mago è questo ogrillon ok tornate indietro tutti non state in questo pertugio grazie eeeh short heel il mago ci ha lasciato qualcosa si uh ci ha lasciato uh abbiamo due palle di fuoco perfetto allora short heel tu sei piena nell'inventario non è importanza viene lui vieni 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 ah posso dare oh che palle allora abbiamo lui questa pergamene abbiamo tutti l'inventario pieno questa è una piccola tragedia allora in verità non è così tragico perché ehm tu hai l'inventario molla tu hai l'inventario è stra pieno perché hai anche tutte queste pietre perfettamente inutili queste le possiamo mettere qua questa la possiamo mettere qua e anche questa ehm salviamo no 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 scusa scusa dov'è eccolo qua uccidetelo perfetto salviamo allora possiamo andare di qua o di qua siccome di qua mi sembra che ci sia qualcosa di importante andiamo prima nell'aria mi sembrava un'aria più mi sa che ci siamo lasciate le spalle qualcosa da questo fa tutto questo mi conviene tornare indietro temo di sì allora la prima il problema è che la prima e la seconda sono diciamo eroiche la terza è da codardi quindi abbiamo poca scelta siamo venuti a mettere fino alla tua malvagia tirannia tu e i tuoi scagnozzi non tormenterete più la gente di Galikin preparati a morire ah mi è pronto per tante morti le vostre vuoi cadere in trappola come tutti gli altri me tormentare i piccoli helpling e gli eroi che venire nei dungeon loro avere sempre il tesoro migliore dei poveri helpling ora noi lottare vuoi morire io prendere tutto Rarg allora mentre lui fa questa tirata tu te ne vieni qua e anche tu te ne vieni qua e Dorne bene tutti voi bloccatelo ok adesso potete uccidere anche voi l'Ogrillon bene menate l'Ogrimagi let's go back ok qualcuno è confuso tante persone sono confuse dov'è il mio personaggio confusa maledizione ok tutti tu spostati oh andiamo a caricare oh che seccatura allora voi salvate venite qua tornate indietro allora qua diciamo sempre la stessa cosa ok che vuoi vedere tornate fuggite 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 lancia di nuovo la confusione l'ha lanciata solo a Viconia allontanati da Viconia perfetto no o chissà sapigliacomia no Viconia non devi no non andare di là brava stai ferma aspetta di calmarti maledizione ok adesso piano piano lentamente noi ci dirigiamo lassù postati non fa niente avevamo salvato ok allora come posso fare a non aspetta adesso forse come posso fare vieni qui allora Edwin spostati ok no 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 non te ne andare fai questo oh è morto abbastanza in fretta anche questa cimitarra è qualcosa di importante no è una cimitarra normalissima allora vediamo se riusciamo a ecco qui tornate indietro vieni vieni spostati tesoro vedete che se ne sta andando un po' dove vogliono loro perfetto risalviamo sono tanti o grillo allora da qui torniamo nella casa del tipo vi ricordate mentre risalviamo che qua non so cosa è responato da questa parte prosegue il dungeon adesso a noi manca tutta una parte del dungeon che adesso proveremo a fare e per farlo dobbiamo tornare da questo lato e penso che sia sicura la strada perché trappole dovrebbero non essercene più ok ok non so se possiamo dormire qua dentro non so se ci conviene dormire qua dentro però eduin è passato di livello possiamo anche farlo passare di livello abbiamo un altro punto competenza lo mettiamo nella fionda chiaramente e cosa abbiamo guadagnato niente più qui un altro incantesimo di livello 3 qui potremmo anche mettere la palla di fuoco ma per ora va bene questo salviamo tesoro munisci tv tu 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 brava vieni di qua è possibile che non ci siano allora ci deve essere sicuramente una oh ecco qua allora da questa parte ma porca miseria non me l'aspettavo assolutamente anche perché ci eravamo passati qua vabbè da questa parte c'è un'uscita venite ed è quella del tempio chissà se posso parlare a questo qua e dirgli no questo dice sempre le stesse cose va bene torniamo dentro il ponte ok allora tesoro non la possiamo curare ok io ho una cura questa ottimo cerchiamo di di scoprirle le trappole però eh ma porca miseria cioè ma ditemi voi allora capisco che effettivamente io sia stata un po' impaziente dico di no vieni qua viconia io se fossi in te non però le soddisfazioni quando si fanno queste cose si guadagnano 40 misere punti di esperienza ok qui è sicuro andiamo di su oh benissimo l'oro cercavo venite qua ma salviamo again questi sono cavalieri fantasma insieme andranno insieme cadranno questo è il voto stabilito nessuno se ne andrà finché tutti non saranno uno e così il voto rimane dobbiamo essere come un solo uomo mi dicono tutti la stessa cosa si allora questi vi ricordate la canzoncina del poeta del bardo là fuori ecco questi sono i tipi in sostanza che Edwin Edwin che stai facendo Edwin Edwin non dovrebbe succedere nulla questa è la canzoncina questi sono i cavalieri di cui parlava la canzoncina voglio morire cioè sto morendo voglio dire però secondo te l'oro cresce qui dentro che qui non abbiamo trovato nulla di ok ci stiamo camminando sopra di nuovo ora qui ce n'era un'altra vi ricordate ecco ma ci vuole un po' perché queste drappole compaiono ma un bel po' però non solo un po' ora qui da qualche parte c'è ovviamente il traditore perché questi sono i cavalieri buoni potete venire qui Edwin vabbè voglio dire anche questo è un metodo no? ci si fa strada nelle aree trovando le trappole pestandole e caricando la partita è legittimo no? non so se la mia personaggio ha un punteggio troppo basso venite di qua ed è per questo che ecco il cavaliere non morto questo scheletrino colpisci colpisci riprenditi l'armatura colpiamolo tutti uccidiamo questo goboldo perfetto ora tu puoi prendere questa armatura antica armatura allora qui in quest'area maledettissima non dovrebbe esserci più nulla a parte questo goboldo schifoso che mi stava per uccidere oh mio dio quanti erano ma porca miseria bene molto bene allora qui deve essere da qualche parte qui che poi la cosa strana è che io passo nelle aree della trappola e non succede nulla poi calpesto la parte sbagliata del pavimento e succede qualcosa allora abbiamo trovato questa benedetta armatura antica adesso con questa armatura antica noi possiamo fare due cose possiamo darla a questi cavalieri e loro ci fanno completiamo la loro quest ci danno dei punti di esperienza oppure possiamo portarla al tipo dell'idolo vi ricordate? ora io direi ma lei perché ha quest'icona qua? ma ora mi pare che il tipo dell'idolo non ci dia alcun punto esperienza però voglio farvi vedere che succede questo vuol dire che andremo lì e poi torneremo indietro voglio segnarmi che qui c'è un qui ci sono i fantasmi no non volevo fare fatto perché siete qui vero? ok allora direi di tornare indietro da qua a Galeckin è giù che ci siamo parliamo anche con il sindaco perché comunque abbiamo abbiamo eliminato il problema dell'ogre magi quindi forse ci darà un dono hanno detto e Rader ho saputo che hai ripurito le rovine del ponte di Firewine i koboldi non tormenteranno più il nostro piccolo villaggio devo congratularmi con te per l'ottimo lavoro svolto ti siamo tutti riconoscenti per il tuo aiuto prendi questa piccola somma di denaro in segno della nostra gratitudine ci ha dato 250 monete d'oro io tenevo che ste 100 tu avevi detto che non li avevi e però ci hai dato molto di più io vabbè evidentemente quando distribuivano l'intelligenza non solo il tipo di quella casa lì ma anche tutto il villaggio era che giocava a nascondino e va bene così dunque l'area in cui si trovava il tipo era questa qua sì credo sia questa allora proviamo ad andare proviamo ad andarci dopo aver ucciso questi koboldi bene proviamo ad andarci riposiamo prima magari è comunque sbagliato non era qua dobbiamo tornare alla scuola di Hulkaster che è molto più vicina ottimo perché qui c'era qui prendevamo l'idolo chiaramente mentre dobbiamo portarlo al al qui al mago venite il cartillo ovviamente non è riuscito a curarsi perché avevamo finito le pozioni adesso è mattina quindi lui non compare dobbiamo sono solo le 8 questo vuol dire che dobbiamo aspettare un bel po' vabbè salviamo e dormiamo ok è notte eccolo lì proviamo a parlargli e a dargli tutto ritorneranno ritorneremo tutti in vita un giorno ah ecco qua si sono presi lui si è preso l'antica armatura l'idolo e ci ha dato la spada vampirica ora questa spada vampirica la vendetta del vampiro abilità durante l'uso influenza negativamente l'intelligenza credo da può essere rimossa soltanto quell'incantesimo scaccia maledizione quindi è maledetta infligge danno a chi la brandisce e cura il bersaglio una spada perfettamente inutile però questa era appunto una chicca che volevo mostrarvi ora ovviamente qui non abbiamo guadagnato esperienza quindi adesso noi carichiamo e torniamo ovviamente al ponte di fire anche sì no non volevo caricare questa partita qui dove ho no l'autosalvataggio forse è la cosa più intelligente infatti andiamo torniamo al ponte di firewine oddio che potevo anche rientrare da là direttamente ma vabbè e rifacciamo la strada da qua in ogni caso io sono sicura che ci sia un modo per arrivare qui ma come c'è un modo per arrivare qua io sono sicura venite qui ora trappole non dovrebbero essercene oboldi li possiamo affrontare eccoli qua così era così è insieme andranno insieme morranno il fratello traditore completa l'uno liberi insieme ci ha dato 1500 punti esperienza che ovviamente rinunciarci per quella spada inutile era un pochino brutto e abbiamo completato la missione perfetto ora io credo che ci sia un modo per arrivare nella zona che non abbiamo esplorato del ponte di firewine quindi proviamoci anzi facciamo così tu 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 e tu venite qui grazie perfetto seguiteli uccidete questo goblin questo koboldo grazie continuiamo continuiamo uffa perché sbaglio tasto continuate a dirigervi qui andiamo perfetto ce n'è più oh mio dio ma quanti sono oh cielo voi avete deciso di non partecipare posso capire siete stanchi stressati oh spostati edwin perché senti il bisogno di essere così vicino al nemico non vi muovete non ve ne è andato di là ok suppongo di dover raccogliere tutte queste benedette frecce che palle l'avete ucciso grazie allora io penso che abbiamo abbastanza frecce di fuoco usciamo da questo posto infame perfetto allora prima di esplorare un attimo direi salviamo e ripostiamo eh più o meno ok allora ci deve essere qualcosa che mi è ma chi è ma dove me ne sono andata coboldo ve l'avevo detto che i coboldi li avresti odiati ecco se non li state odiando mi chiedo quale sia il vostro problema ops 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 ottimo ottimo tesoro ricurami lei per favore perfetto ecco fatto ancora ma che seccatura che pergamena però ok stavo dicendo allora ci deve essere qualcosa che mi sfugge perché di qui non possiamo andare di qui non possiamo andare uh ok possiamo scendere di qui forse sì mi sembra percorribile in verità qui abbiamo la superficie calpestabile che ci poteva venire in aiuto vabbè allora tu hai rotto le balle ma proprio ampiamente vediamo cosa c'è qui ok qua c'è nulla cazza mi sta facendo impazzire oh ti prego fallo smettere fallo smettere di urlare ah finiscila cosa c'è che non va cos'è che ti sta facendo impazzire se vuoi essere aiutata ragazza devi calmarti lui è nella mia testa non sta mai zitto continua a bisbigliare bisbigliare vedete questa giara la vedete vediamo anche noi la giara adesso calmati e raccontaci cosa sta succedendo i miei compagni ed io abbiamo esplorato le roviene di Firewine e abbiamo trovato abbiamo trovato questa giara li ha fatti diventare tutti pazzi tagliavano e mutilavano il sangue così tanto sangue ora sono tutti morti sono rimasta solo io la voce mi dice di pronunciare quel nome se lo faccio mi ha promesso grandi ricompense ma non lo farò come possiamo aiutarti la povera Carsa non può essere aiutata non potete aiutarla dovete andarvene è in fretta presto Carsa non resisterà più presto pronuncerà quel nome e allora lui arriverà e verrà sparso tanto sangue il mio il vostro quello di tutti dacci la giara sapremo cosa farne non preoccuparti no Carsa non vi darà la giara la giara è sua è sua soltanto andatevene andatevene altrimenti Carsa pronuncerà quel nome moriremo tutti dacci la giara Carsa daccela subito non prenderete la giara di Carsa è mia mia state lontani da me altrimenti pronuncerò quel nome state lontani insistiamo ci prenderemo la giara che ti piaccia no no Kark oh onnipotente Kark bene bene leviamoci dalle balle leviamoci dalle balle perché ci sta inseguendo porca miseria fuggite 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 la vedo molto male la vedo molto molto male chi è questo non ricordo questo incontro sapete chissà se ci sta ancora seguendo posso salvare ok oh ok sono libero finalmente mortali prima di morire sappiate che avete compiaciuto Kark il più potente tra i yogre e magi la vostra morte alimenterò la mia forza perché ora sono debole allora va bene allora avevo fatto salvare la mia personaggia dissolve magie sì va bene ma questa è una palla di fuoco oppure un fulmine porca miseria togliti togliti porca miseria porca miseria carichiamo ok è protetto da missili normali ho capito bene sì ho capito ok menatelo per favore tu spostati tu spostati anche tu spostati grazie allora mi sa che è un po' troppo protetto per noi allora questi non sono missili normali e fatemi ragionare questi non sono missili normali quindi li può usare vediamo se questi fanno effetto ma non credo perché è infatti ah wow però lo stavamo colpendo a un certo punto ok 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 carica possiamo farcela ragazzi dove ci troviamo ah ok ho caricato mi ha caricato qua oh ma perché mi ha caricato qua vabbè diamo un attimo un'occhiata ai nostri incantesimi orrore ragnatela non credo qui ci sia qualcosa che può servire però noi avevamo degli incantesimi che potevamo imparare allora mettiamo un attimo qua dentro tutto quanto ok 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 apri contenitore perché il gioco sta laggando vabbè allora andiamo e partiamo dal basso di fulmine ne abbiamo uno abbiamo anche nube maladorante indivisitazione dell'invitabilità del male palla di fuoco ne dovremmo avere due andiamo a questa crollo di incantesimi anche questo può essere utile nube assassina ok fatto allora io ero sicura che avessimo un'altra pergamena di palla di fuoco ma sicura sicura di sicura eccola qua infatti tieni perfetto allora che bellezza perfetto crollo di incantesimi è di livello 3 io effettivamente glielo darei tutto il resto lo possiamo mettere qui ora come livello 3 proviamo questo shawl proviamo a mettere questo crollo di incantesimi tutte le protezioni magiche di quinto livello inferiore include defletto incantesimo globo minore immunità incantesimi respite io non credo funzionerà però boh proviamo tu tieni tranquillamente la rimuovi magie vabbè salviamo proviamo a riposare di nuovo così peraltro siamo più curati ottimo andiamo a riparlare con karsa cosa c'è che non va la giara dacci la giara dacci la giara dacci la giara va bene vabbè ok allora menatelo tutti tutti sposti tutti sposti tutti sposti ok grazie allora no 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 proviamo a lanciargli il crollo di incantesimi dov'è lui ha funzionato vuoi lanciarli anche questo ok viconia vieni qua dietro anzi viconia fai una bella cosa per essere proprio sicuri sicuri bene menalo allora qui dovevamo avere le cose magiche lei ce l'ha lui non ce l'ha oh che palle con questi fulmini prendetelo tu questo questo coso che cos'è l'abbiamo colpito però sì l'abbiamo colpito e 20 punti di danno perforante da sharteel this is great quindi colpiscilo per cortesia colpisci colpiscimelo anche tu sharteel mettiti dietro di lui ce la fai a nascondersi nelle ombre fallito vabbè non mi piace il fatto che sia voltato verso viconia perché viconia è molto debole però ohio ohio vabbè non è così tragica oh ce l'abbiamo fatta abbiamo guadagnato 3500 punti esperienza tesoro ti passerà credi ritieni che ti passerà pensi che sia il caso di darti una mano salviamo oh mio dio ok curiamola ok ok se ne è andato quell'effetto perfetto vediamo cos'altro resta in questa zona e non resta niente which is very great ops proviamo questo ok dai il suo la sua questa sua abilità finalmente è servita a qualcosa benissimo abbiamo terminato anche il ponte di firewine e con questa abbiamo terminato praticamente tutta la zona a sud o diciamo centro sud della mappa del mondo direi di fermarci qui per oggi perché davanti abbiamo un pezzo abbastanza impegnativo se non altro in termini di tempo oh ma jesus jesus posso fare il discorso finale in pace non posso comunque mentre i nostri personaggi uccidono tutti questi scheletrini ma sono distribuiti in modo maledetti eccoci qua allora proviamo proviamoci di nuovo diciamo che direi di fermarci qui perché adesso appunto mettiamo in pausa ci aspetta un pezzo abbastanza impegnativo appunto se non altro in termini di tempo perché ci tocca andare nel bosco ammantato dove pare che appunto sia andato tajok e il bosco ammantato ve lo dico si espande diciamo più o meno in questa zona e include anche una miniera non è uno spoiler perché in realtà l'abbiamo già scoperto nelle lettere nelle ultime lettere che abbiamo trovato quindi tutto questo vorrei riuscire a farlo in una sola battuta però dipenderà anche un po' da come va nel bosco perché qua ricordo che c'erano dei ragni particolarmente ostici quindi vedremo dunque dopo fatto questo insomma si toccherà probabilmente in un altro episodio la parte più a nord quindi questa area qui queste due aree questa l'abbiamo esplorata ma questa ancora non del tutto bene e poi naturalmente la città di Baldur's Gate che ve lo dico è grande è difficile cioè questa vi sembra un'unica area no sono mi pare 5 o 6 la città di Baldur's Gate tra l'altro per me è molto confusionaria ed è la parte del gioco che ricordo di meno dal punto di vista proprio geografico ricordo tante delle quest che noi affrontiamo qui dentro ma non ricordo dove sono con chi sono quindi questa andrò un po' più alla cieca diciamo naturalmente prima della fine non vi preoccupate faremo anche i contenuti della espansione quindi Ulgos Bird e la torre di Durlag tutto questo però appunto nei prossimi video per adesso invece vi salutiamo qui in pausa perché così è meglio e vi ringrazio tutti voi che siete riusciti a seguirmi diciamo in semi live in premiere e anche tutti quelli che mi seguiranno che recupereranno nel video dopo lasciatemi un commento sotto il video se volete perché lo apprezzo sempre e ci vediamo al prossimo video ciao ciao